Il patrimonio artistico presente al Liceo Bonachia non è indifferente e l'Istituto è deciso di aprire le porte alla cittadinanza e di renderlo fruibile. Una decina le opere e mostre all'interno dell'Istituto presentate dagli studenti. Oggi le socie della Fidapa di Sciacca sono state le prime ad approfittare della visita guidata e da conoscere parte del patrimonio artistico presente nella scuola. È la prima tappa di un progetto fortemente evoluto dal Liceo Artistico che è la nostra scuola museo. Noi nella consapevolezza di custodire queste opere così importanti e così caratterizzanti l'arte del nostro territorio desideriamo proprio che vengano conosciute e apprezzate dalla cittadinanza all'esterno. E allora abbiamo pensato grazie all'aiuto dei ragazzi che per l'occasione saranno dei ciceroni eccezionali di ospitare gruppi e previa prenotazione per ammirare i pannelli, gli affreschi e tutto quello che è veramente importante noi custodiamo. Nella consapevolezza che la scuola è del territorio ed è anche un punto, un polo culturale importante e fondamentale del territorio e come tale deve fare cultura, deve diffondere bellezza, arte. E oggi con questo primo incontro con le socie della sezione della Fidapa di Sciacca vogliamo proprio raggiungere questo obiettivo. Le socie sono state ben felici di usufruire di queste bellezze, qui viene costruito un patrimonio immane che non è molto conosciuto alla città e che oggi è possibile visitarlo e quindi le socie hanno accolto numerose, oggi siamo veramente tante ad usufruire di queste opere d'arte. Questa esperienza è stata sia per me che per i ragazzi molto costruttiva, ci siamo messi in gioco, abbiamo affrontato delle tematiche, abbiamo approfondito così per esporre agli ospiti ciò che siamo riusciti a trovare. Sono stata la guida turistica dell'affresco della Madonna del Soccorso che è un'opera molto conosciuta qui a Sciacca. Abbiamo opere altre affreschi provenienti dalla chiesa dell'Itria, il pannello Bonachia e molte altre ancora che saranno all'incirca più di una decina. Grazie a tutti.